che viene complimentata dai suoi allenatori. Ed eccoci alla prima azzurra in gara, sempre alle parallele. Parliamo di Daria Sarkoš. Intanto seguiamo l'esercizio. Tecnici azzurri pronti a dare anche un conforto morale a Daria Sarkoš, classe 85, nata a Mestre, testerata per la spesse di Mestre, allenata da Giorgio Citton, buono il suo curriculum nazionale, buona anche l'uscita da parte della Sarkoš.